Vicoli e angoli di Fiorenzuola di Focara, insigniti del riconoscimento nella restretta cerchia nazionale dei borghi più belli d'Italia, in queste festività risultano ancora più suggestivi attraverso la creazione del Borgo Presepe. Un appuntamento che in vista di ogni epifania dissemina nella località del San Bartolo la magia di presepi realizzati dalla maestria e dalla buona volontà dei residenti. Residenti che vogliono preservare questa bellezza che mal si concilia con l'antenna di telefonia che da mesi troneggia su Fiorenzuola e che in questo 2024 si vuole ad ogni costo rimuovere o spostare. Noi siamo in disaccordo col piano antenne in quanto riteniamo che non sia accettabile avere su Fiorenzuola di Focara un'astronave che è sulle nostre teste che in qualche maniera deturpa dal punto di vista ambientale tutto questo bellissimo borgo. Ricordo che questo è il borgo ospite dei borghi più belli d'Italia non avrebbe avuto questo riconoscimento se quell'antenna fosse stata collocata prima del riconoscimento stesso. Abbiamo una comunità attiva, abbiamo il Borgo Presepe, tutti i presepi vengono fatti davanti alle abitazioni, invitiamo la gente a venire, non è possibile continuare su questa strada. Io auspico che la Befana porti consiglio a tutti e che si possa una volta per tutte rimuovere l'antenna e collocare una posizione più consona dove non abbia nessun tipo di impatto ambientale.